Mary J's ASMR Ciao ragazzi Buonasera a tutti Come state? Spero tutto molto bene A me è tutto ok? Do you love me? Do you love me? Buona decisione Non guarda mai Sì Grazie a tutti. Un bel videotrinker oggi per accompagnarvi nel sonno. Faremo anche un po' di barattolo della karma in questo video, che non lo porto mai. Oltre a questo spettacolare sea sound, ci sta, ci sta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' di trigger che non guastano faremo oggi. Grazie a tutti. 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 Un'altra cosa che vi voglio portare, che non porto da tempo, molto molto carina. E allora, li avevo già preparati qua. Andiamo a mettere i guanti. Ecco qua. I miei amati i guanti, ragazzi, li adoro. Grazie a tutti. 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 Passiamo ad un altro trigger. Un semplice rotolo. con un semplicissimo pennello cosa andremo a fare? andremo a fare questo andremo a fare questo andremo a fare questo questo mi pare essere tipo una sorta di pulizia ricorda questo somiglia a questo genere di cose quindi con questi trigger oggi spero di averti rilassato o rilassata e ci diamo appuntamento al prossimo video intanto buonanotte